bentornati miei scomunicati per un ride in code velocissimo che poi vado live su con rocket league penso perché c'è anche un altro gioco che si chiama genshin impact se vi piace fatemelo sapere nei commenti che magari ci facciamo una giocatina su twitch venitemi a trovare lì lo scarichiamo al volo insieme allora abbiamo il nuovo ride in code quindi non ci perdiamo d'animo e andiamo subito a vedere come prenderlo ovviamente ragazzi qua sopra impostazioni per fortuna ride in code abbastanza bello pionzo 57 kh 69 fhzr facciamo la conferma 1500 gemme e 60 gustosissime pietre viola un reward molto molto generoso ogni tanto ci tocca anche questo casca preciso bellino con la spedizione abissale così almeno abbiamo anche modo di rifundarci la metà dell'investimento che facciamo scusatemi l'ambientazione non voglio tirare il green screen accendere le luci beh quindi non male non male perché no perché anzi apriamo le vai tanto l'ho già aperte in quell'altra viviamo un po che mesce una rosa una rosa ci sta ci sta molto bene quindi fatemi sapere commentate con quello che avete trovato ragazzi spero che vi porti fortuna la cosa sarebbe stato carino trovare un elagio e l'aila ma nelle ultime due pietre coperto ci ho trovato un mesot quindi concludiamo con questo video ragazzi vi aspetto su twitch se non ci vediamo oggi pomeriggio ci vediamo o domani pomeriggio oppure domani sera alle 9 e mezzo ragazzi altri salmon di afcarena domani arriverà il video delle gesta impressionanti che abbiamo portato avanti giovedì con le salmon con sembonzacola